Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Like, così a caso, senza motivo Parliamo della conferenza stampa di Pioli Che come sempre ha toccato tanti argomenti importanti E tanti argomenti che magari di solito cerca, come tutti gli allenatori, di glissare Invece ha parlato anche di Romagnoli, ha parlato anche della situazione di infortuni Ha parlato anche della Champions League Cosa dire, partiamo da Romagnoli Perché sappiamo che, insomma, Romagnoli non sta attraversando un bellissimo periodo Nella partita con l'Udinese è tornato titolare dopo aver saltato la partita con la Roma Secondo me ha fatto comunque meglio Peraltro, scusatemi ragazzi se non ho dati i voti per quella partita Ma non sono riuscito a farli Per quanto riguarda Romagnoli avrei detto questo se avessi fatto il pagellone Che sicuramente è stato determinante nel salvare la palla sulla linea E' stato molto molto attento a leggere la situazione Detto questo, sul gol di Becao Dove sicuramente c'è una grande, grandissima responsabilità di Gigi Donnarumma Forse poteva fare di più Si è fatto un po' sovrastare da Becao Quindi, diciamo, poteva fare meglio Però, tutto sommato, è stata una partita buona per il capitano E Pioli ha parlato di questa situazione Dicendo che Alessio ha accettato la panchina con la Roma Anche se, ovviamente, non era felice Ho letto molti commenti che dicevano Eh, però, come fa a non essere... Cioè, nel senso, erano arrabbiati alcuni tifosi Perché lui non era felice di andare in panchina Ma secondo me bisogna vederla sotto un altro punto di vista Bisogna essere contenti che Romagnoli non era contento Nel senso che se un giocatore è contento di andare in panchina Signori, meglio che vada via subito Per quanto riguarda Romagnoli, invece Nonostante difficoltà, nonostante tutto Perché alla fine, ragazzi, lui si rende conto Che non sta passando un periodo bellissimo Se nonostante questo era dispiaciuto di andare in panchina Vuol dire che in realtà voleva rimanere in campo Per cercare di fare meglio Quindi, personalmente, quando un giocatore va in panca E dà un po' il muso A me fa piacere Poi è ovvio che alla fine decide sempre L'allenatore, sapete che io mi schiero sempre Dalla parte dell'allenatore Perché penso che lui, più di tutti Vuole il bene della squadra Mentre il singolo giocatore In linea di massima Pensa sempre al bene personale Così come sono contento, ad esempio Che per quanto riguarda Ibraimovic E faccio una piccola divagazione Nonostante il suo ego Nonostante la sua voglia di superare I suoi stessi numeri Nella penultima partita Abbia deciso di lasciar tirare il rigore A chi è sì Perché la vedo come una cosa positiva Che metti appunto la squadra Davanti alla tua soddisfazione personale Quindi bene anche quell'atteggiamento di Ibra Per quanto riguarda Ibra, peraltro Ho letto che Pare fatto il suo ritorno Nella nazionale Non lo so Sono sempre un po' scettico Perché già A livello di club Ha tantissime partite Se ora addirittura Gioca quelle della nazionale Ragazzi Non so Non so Non capisco il senso Di tornare in nazionale Sinceramente a 40 anni suonati Dopo che sei stato escluso Un po' per scelta tua Un po' per scelta da allenatore Però vabbè Anche lì Forse sto facendo un discorso Da egoista Ed è giusto forse Che Ibra vada Vada in nazionale Di cosa ha parlato Altro Pioli Ha parlato del quarto posto Dicendo che come sempre Ci sono sette squadre Che spingono Per arrivare Tra le prime quattro posizioni Personalmente ragazzi Sapete come la penso Vale a dire che Le due sicure Che vanno in Champions Sono sostanzialmente Inter e Juventus Anche se la Juve Sta faticando quest'anno Però insomma Secondo me Ci arriverà facile In Champions League E poi rimangono Due posti vacanti Tra Lazio Roma Atalanta Milan Napoli E basta Queste cinque Non sarà facile Non sarà facile E Pioli ha ammesso Che insomma Non andare in Champions Quest'anno Farebbe davvero male Ha però detto Che ovviamente L'obiettivo del Milan È quello di pensare A sé Nel senso Non bisogna fare i calcoli A guardare le altre squadre Il Milan deve giocare Per fare bene E basta Come ha sempre fatto Anche in questi momenti Di difficoltà Poi io sono dell'idea Che comunque ragazzi Stare sopra Cioè nel senso Io che sto sopra Io Milan Diciamo Sto sopra Vedo la Roma Che comunque è vicina Vedo l'Atalanta Che è vicina Vedo la Lazio E Napoli Che tranquillamente Possono rientrare Ancora Con più cattiveria Nella lotta Al quarto posto Nei primi quattro posti E ho paura Da milanista Però ragazzi Bisogna pur sempre Ricordarsi Senza mai Abbassare l'attenzione Che siamo comunque Più su Nel senso Che chi insegue Ragazzi È messo sempre peggio Perché se il Milan Non può permettersi Passi falsi Chi sta giù E deve inseguire Se ne può permettere Ancora di meno Vi ripeto Questo non significa Che bisogna adagiarsi Sugli allori Ma bisogna continuare A fare bene Per cercare Di raggiungere Questo traguardo Che dopo tanti anni Senza Champions Sarebbe un sogno Pazzesco Ovviamente Per raggiungere Questo sogno Ragazzi E poi chiudo Perché altrimenti Vado lunghissimo E bisogna cercare Di recuperare Quanti più giocatori Possibili Perché noi ragazzi Abbiamo davvero bisogno Di recuperare Più gente possibile È uscito Non mi ricordo Non so se sulla Gazzetta O sul Corriere Non lo sto ricordando È uscito L'elenco Dei giocatori Del Milan Con a fianco Un numerino E quel numerino Rappresentava Le partite Di campionato Saltate Dai giocatori Per infortunio C'erano due Che avevano zero Partite saltate Per infortunio Vado a dire Calabria E che si Gli altri ragazzi Da 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 Ibra Che ne ha saltate Tipo 14 Rebic Che ne ha saltate 8 Cialanoglu Che ne ha saltate Sei Ben Aser Anche lui Tantissime Quindi capite ragazzi Che Non è un voler Giustificare Alcune prestazioni Opache Però insomma Sappiamo benissimo Che Quando mancano I titolari Determinati titolari Poi Con l'eleganza Di Ben Aser Con la Con la rabbia Di Ibra Con l'esperienza Di Ibra Con Con la Con la Con la pazzia Di Cialanoglu Quando sta bene E E Determinante Poi il tutto No Cioè Ti sposta effettivamente Un po' Gli equilibri Resta il fatto Che il Milan Ha fatto bene Anche senza I titolari Ma questo non significa Che insomma Che non abbiamo bisogno I titolari Quindi speriamo Che per questo Rush finale Il Milan Possa avere Tutti i giocatori A disposizione Peraltro anche Li Manzo Chi ci è venuto Al posto di Ibra E anche lui Vabbè Quindi speriamo bene Incrociamo le dita Per quanto riguarda Live reaction Domani ragazzi Vediamo Se si riesce a fare Vediamo Vediamo Speriamo bene Non so se la faccio io Non so se la fa Steve E poi magari Mi collego io Comunque ci vediamo sempre Sull'altro sito Che sapete Vi lascio anche Il link in descrizione Per adesso è tutto Ragazzi Buon weekend E eventualmente A domani Ciao belli Grazie a tutti Grazie a tutti.